Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. In una giornata che si sta rivelando cruciale per il mondo dell'economia e della moda, gli investigatori del Nucleo Economico della Guardia di Finanza hanno presentato nuovi sviluppi nel caso del pandoro griffato da Chiara Ferragni e prodotto da Balocco. Depositata oggi a Milano una relazione che potrebbe cambiare completamente la direzione delle indagini, l'ipotesi di reato potrebbe passare da frode in commercio a truffa. Questo cambio di rotta dipende da una nuova valutazione degli elementi emersi, il presunto profitto illecito e il danno subito dai consumatori. Intanto, a seguito di questo scandalo, alcune prestigiose collaborazioni di Ferragni, tornata recentemente sui social, sembrano essere state messe in discussione, tra cui quelle con Coca-Cola e Safilo. Un dettaglio inaspettato è stato rivelato. La Guardia di Finanza ha inviato al procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, una serie di documenti che potrebbero ribaltare il caso. Tra questi, allegati e nuove prove già emerse durante le indagini dell'antitrust, che aveva precedentemente multato sia Ferragni che Balocco per pratica commerciale scorretta. Sono state inoltre acquisite delle e-mail tra il gruppo Dolciario e l'imprenditrice digitale, che potrebbero contenere indizi cruciali. Parallelamente, le Fiamme Gialle stanno indagando su altre due iniziative commerciali, le Uova di Pasqua di Dolci Preziosi e la Bambola Trudi, entrambe a scopo solidale. Questi nuovi elementi potrebbero portare a iscrizioni nel registro degli indagati nelle prossime ore, spostando così il focus delle indagini da una generica indagine contro ignoti a specifici individui. La situazione si complica ulteriormente con la scoperta che altre procure, dopo gli esposti presentati dal Codacons, si sono rivolte all'aggiunto Eugenio Fusco per concentrare le indagini a Milano. Questo nuovo sviluppo suggerisce che il caso Balocco-Ferragni sta assumendo proporzioni sempre più ampie, con implicazioni che potrebbero estendersi ben oltre i confini iniziali dell'indagine. E tu cosa ne pensi di questa triste vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.